Il sapore al quale non posso resistere è quello delle creme spalmabili Primia. Per il più semplice degli spuntini, ma anche per una colazione veloce. Provali! Ricetta classica con nocciola e cacao. E versione di gusto, con la crema di sole nocciole. Io scelgo le creme spalmabili Primia, per risparmiare con qualità, ma con il sapore che ti aspetti. Grazie per la visione!